e guerra dei nomi e guerra dei simboli e guerra delle bandiere al vento come tanti dei politici nostrani nomen omen nel nome il destino recita un vecchio adagio latino e allora proviamo a capirci qualcosa riassumendo la vicenda proprio partendo dai nomi dei protagonisti bando alle cianciola dunque non è bastato tenere la coppola sulla poltrona di sindaco per cinque anni anche questa volta è un alfieri a fare scacco al re e a mettere fuori la porta il primo cittadino una scelta che muta li passi dell'intero quadro politico agropolese un pesce d'aprile in ritardo di qualche giorno ma che è stato in grado di fare un pirotecnico botticchio della coalizione di governo sono in tanti cittadini ad avere reazioni di biasimo per quello che sta accadendo traditori e traditi cospiratori e costipati pardon cospirati il passaggio dal sentirsi una volpe a diventare una iena è sempre più sottile più che la margherita sono in tanti a sfogliare i petali del rosiello di turno forse un po' appassito a causa delle calure dei temporali improvvisi dovuti al famigerato effetto serra è fortunato chi ci capisce qualcosa se siano venti di burrasca o un bene vento è tutto da vedere del resto ogni azione produce una conseguente reazione per quell'effetto domini figlio di stagioni passate che si rinnovano ogni volta con la medesima regia e che le mosse degli ultimi giorni stanno scatenando che ne sarà del primo cittadino in carica un pensiero malandrino lo rivorrebbe di nuovo a capo di forza italia vano il tentativo di mandarlo in qualche eremo sperduto di certo non ci sarebbe per lui un abate ad accoglierlo eppure il centrodestra pare proprio che ci stia pensando in un gioco di nomi di simboli di bandiere sempre più intercambiabili come le casacche colorate nelle partite di calcetto